Walter Sabatini è stato annunciato nel tardo pomeriggio di martedì come nuovo direttore generale e a caldo aveva dato appuntamento ad oggi. Si sarebbe dovuta svolgere la conferenza stampa di presentazione del dirigente Umbro che a Salerno ha già lasciato il segno con quella clamorosa salvezza del 2022. Piani cambiati però, anche perché ieri il presidente Danilo Iervolino aveva in agenda un appuntamento con Morgan De Santis per decidere cosa fare visto il contratto che lega il dirigente abruzzese sui più stretti collaboratori fino al 2025 al club Granata. Iervolino ha chiesto ancora a De Santis di restare in organico ma l'arrivo di Sabatini che ha già fatto sapere di non gradire troppe presenze esterne rispetto al suo ristretto entourage rende la cosa abbastanza difficile da realizzarsi. Da un lato però De Santis che rivendica di aver agito sul mercato nel pieno rispetto delle direttive del presidente non pensa alle dimissioni. Dall'altro Iervolino non vorrebbe procedere all'esonero perché dovrebbe corrispondere tutti gli emolumenti previsti dal contratto a De Santis e al suo staff. Schermaglie se non proprio un braccio di ferro. Del resto Sabatini è stato chiamato per svolgere il ruolo di mentor di un gruppo che appare bisognoso di una guida ed anche per fare mercato. De Santis, lo schiavo e migliaccio sono al libro paga per fare esattamente queste cose e dunque sembra un po' quella classica situazione da una poltrona per due. Ai Iervolino il compito di uscire quanto prima dall'imbarazzo. Grazie a tutti.